ciao a tutti visto che Dario mi ha coinvolto in questa cosa al primo colpo diciamo e mi ha anche citato il libro che ho scritto insieme a Fabio a Rufus Bristot ne approfitto per leggervene un passo e vista anche l'emergenza che stiamo vivendo e quello che stanno facendo tutti gli infermieri è un passo appunto che parla di una di loro è tratto da appunto dal libro da questo che vi diceva Dario e buona quarantena a tutti come si fa le serve qualcuno che glielo spieghi subito immediatamente perché bisogna farlo lei è lì per quello cioè lo sa benissimo come si fa logico è il suo lavoro ma quelli quelli incastrati tra quei rottami lei li conosce sono amici colleghi con uno di loro ha avuto uno scambio di battute proprio ieri quando quell'elicottero che ora se ne sta là disteso su un fianco era arrivato a Treviso per il trasferimento di un paziente da Feltre con Francesco il dottore si erano visti mercoledì ad un corso di aggiornamento e allora non è la stessa cosa di tutte le altre volte in cui ha dovuto fare quello che ci si aspetta da lei no non lo è affatto il capitano dei carabinieri ha ricevuto dalla procura della repubblica di belluno l'autorizzazione alla rimozione dei corpi e lo ha comunicato a chi di dovere ora bisogna solo estrarli dal groviglio di lamiere e vetri senza darlo a vedere neanche fosse una cosa proibita osserva le altre persone che le stanno intorno anche in loro percepisce lo stesso disagio non parlano guardano a terra pestano il terreno sempre nello stesso punto spostano il peso da una gamba all'altra più distante sul ciglio della scarpata ci sono alcuni curiosi forse turisti che se ne stanno muti quasi timorosi probabilmente consapevoli di trovarsi di fronte a un'immane tragedia ma sicuramente il loro animo non è sconvolto come quello di chi le sta a fianco membri del soccorso alpino personale dei carabinieri della guardia di finanza ed un paio di vigili del fuoco gente che di incidenti ne e di morte anche eppure stanno lì aspettano un coraggio che forse non arriverà mai poi uno del soccorso alpino decide per tutti andiamo dice e gli altri lo seguono a testa bassa alcuni volontari della stazione di cortina con il loro medico si avvicinano a quello che resta di falco si infilano dal portellone spalancato nella pancia dell'elicottero facendosi spazio tra le componenti colasciate con pietà e terrore ma anche con una qualche difficoltà li tirano fuori uno alla volta posandoli con delicatezza sulla ghiaia lei non riesce se ne sta in disparte a guardare le braccia incrociate sul petto quasi a proteggersi da ciò che sta accadendo davanti ai suoi occhi poco dopo il primo dei quattro è ormai disteso davanti a lei ed alcune strisce rosse tingono la pancia bianca dell'elicottero allora fa quello che deve fare prende il sacco salma verde scuro lascia che i soccorritori vi depongano il corpo di francesco che la caduta ha scomposto nella controfigura di se stesso poi tira sulla zip evitando di incontrare quegli occhi che non hanno più vita quegli occhi scuri che mercoledì le avevano sorriso salutandola per altre tre volte assieme al personale della stazione del soccorso alpino di cortina ripete gli stessi gesti meccanici ogni volta una preghiera con la speranza che serva a qualcosa anche se non sa bene a cosa dovrebbe servire adesso dio dove eri prima dove eri un'ora fa questi ragazzi stavano facendo del bene stavano aiutando gli altri che senso ha tutto ciò osserva gli uomini trasportare le barelle su per il ripido fianco del torrente poi si siede in mezzo al fango e ai mughi che le pizzicano il collo appoggia la fronte sulle ginocchia e lascia che i singhiozzi le squassino il petto che le lacrime scendano a confondersi con l'acqua torbida che scorre un poco più in basso incurante di chi le sta attorno incurante anche di quello che possono pensare sente pacche sulle spalle mani sulla testa ma non alza gli occhi per vedere a chi appartengono alcune delle persone che sono lì le conosce altre no ma non fa alcuna differenza forse non si rivedranno mai più ma lei sente che questa tragedia ha indelibilmente marchiato a fuoco ognuno di loro lasciando una cicatrice profonda che nemmeno quello scalpellino del tempo riuscirà più a cancellare forse solo a lenire un poco c'è un altro elicottero che aspetta diego francesco stelvio e michele saranno le ali di pelican a dispiegarsi per il loro ultimo volo falco resta lì più solo che mai coricato su un fianco in mezzo alla melma e pare quasi che voglia provare a risollevarsi di un poco per salutare i suoi quattro amici per chiedere loro scusa per non averli saputi proteggere anche se la colpa non è sua un uomo poco distante da lei continua a rigirarsi tra le mani un cappellino rosso sporco di fango povero diego continua a mormorare povero diego andrea il tecnico di leone 1 le tende una mano per aiutarla a rialzarsi andiamo qui non possiamo fare più nulla purtroppo la voce gli trema agli occhi lucidi lei si aggrappa quella mano come se fosse un ancora di salvezza si tira in piedi e si asciuga le lacrime prima di risalire il pendio strappa un piccolo fiore e lo affida al vento perché lo porti tra i rottami